Un ulteriore mito dell'antimafia viene fatto crollare dalla magistratura. In questo caso è Adriana Musella che viene accusata di malversazione di soldi pubblici perché con la sua associazione antimafia, secondo le accuse della magistratura, avrebbe utilizzato i fondi ricevuti dagli enti pubblici non in maniera corretta. Detto ciò questo non significa che la signora Musella sia colpevole perché noi siamo garantisti e lo siamo sempre e quindi riteniamo che il colpevole o l'innocente dovranno stabilirlo i processi, i tre gradi di processi. Noi ci auguriamo che la signora Musella esca indenna da questa vicenda, ma utilizziamo il suo caso per evidenziare un dato che è ormai evidente e non può essere più nascosto. E' la fine di una certa antimafia militante, è la fine di quella che è stata definita il professionismo dell'antimafia. Coloro che per la verità hanno utilizzato le loro associazioni anche in qualche modo supportate da un certo pezzo di magistratura, da alcuni pubblici minimisteri che hanno scorazzato in giro per i vari eventi che queste associazioni hanno promosso, promuovendo libro, acquisendo visibilità. Per cui queste associazioni antimafia non sarebbero esistite se specularmente non ci fosse stato un pezzo di magistratura che le ha in qualche modo alimentate. Adriana Musella è l'ultima di una serie di rappresentanti dell'antimafia che è stata sottoposta a un controllo della magistratura. Questo significa che va ripensato il concetto stesso di antimafia, perché come scrive in un bellissimo libro che ha fatto Francesco Furgione, che è stato Presidente dell'antimafia, è la fine dei miti di questa antimafia. Il libro si intitola I tragediatori perché riporta una dichiarazione che Buscetta ha fatto ai magistrati sui tragediatori della mafia. I tragediatori della mafia erano i mafiosi che non dicevano la verità al cospetto della cupola. Per cui questi bugiardi tra mafiosi venivano definiti tragediatori. Ecco, adesso ci sono i tragediatori dell'antimafia, quelli che nell'antimafia spesso non dicono la verità. Quindi è arrivato il momento per utilizzare questo ennesimo fatto e ripensare l'antimafia come concetto e come valore che attraversa orizzontalmente la società e non come gruppi organizzati. Perché in questa antimafia di professione ne abbiamo visti di tutto e di più. A partire da certi giornalisti come un certo Bon Giovanni che con orgoglio si definisce esponente dell'antimafia di professione. Che prima di fare questo, cioè il professionista dell'antimafia, faceva l'avvistatore di UFO. Ecco, insomma, per non passare dalla tragedia alla farsa, io credo che sia giunto il momento di ripensare il concetto dell'antimafia e dell'impegno antimafia. Grazie per la visione!